Termina nuovamente con un pareggio il match casalingo che domenica scorsa ha visto la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile affrontare le dirette rivali della Federazione San Marinese in uno scontro diretto tra matricole. Una gara alla terza del girone di ritorno che ha mostrato una certa superiorità dell'Arezzo sul versante del gioco senza però regalare alle padrone di casa la gioia della prima vittoria interna. Orfana di alcuni elementi il tecnico Nazarena Grilli sperimenta un inedito 4-4-2 mandando fin dal primo minuto Antonelli Trepali, Arzedi, Teci, Zeghini e Casula a ingrossare la retroguardia, Mencucci, Verdi, Prosperi e Baracchi a centrocampo, Di Fiore e Nocchi in attacco. Al trentaseiesimo dopo diverse occasioni da gol arriva il vantaggio dell'Arezzo grazie all'erogol siglato dalla centrocampista Carolina Baracchi su assist di Nocchi. Baracchi inzacca alle spalle di Guidi con un tagliente tiro a girare. Nel secondo tempo l'Arezzo sfiora più riprese il raddoppio come a 11 minuti dalla fine quando le Amaranto centrano una traversa da 25 metri. L'irreparabile accade durante i minuti di recupero al novantatresimo sugli sviluppi di un corner battuto da Canini, Dulbecco trova di testa la conclusione e porta il risultato sull'1-1 allontanando ancora una volta l'appuntamento delle retine con il primo successo casalingo. Al triplice fischio finale le due neopromosse si spartiscono dunque il bottino confermandosi all'ottavo gradino della classifica insieme all'imolese. Siamo qui con la zona grilli, mister dell'Arezzo, un parezzo quasi di beffa questo oggi qua, maturato nei minuti finali, un Arezzo che nel mio tempo ha attaccato molto bene e nel suo tempo ha saputo anche soffrire. Sì, no, io non ho niente da rimproverare alle ragazze, hanno fatto una grande prova e 15 giorni che lavoriamo insieme si sono viste delle ottime cose, altre ancora c'è da lavorarci, però penso che siamo sulla strada giusta. Penso che oggi secondo tempo loro hanno fatto quel gol all'ultimo minuto su una palla inattiva che è un po' il nostro debole se vogliamo, però per quanto riguarda la partita nel suo complesso ho visto delle buone cose, un'ottima personalità. Dobbiamo ancora migliorare nella gestione della palla perché siamo un po' precipitose, però penso che oggi non c'è niente da dire, nel senso che è anche stata un po' di sfortuna perché secondo tempo credo che San Marino non abbia sorpassato mai la metà campo, pur noi non giocando forse. Però abbiamo chiuso tutti i varchi, siamo ripartite bene, abbiamo beccato una traversa, abbiamo creato due o tre palle gol che potevano essere gestite diversamente, ma nel complesso c'è l'amarezza, però anche la soddisfazione di aver visto qualcosa di buono. Adesso c'è per preparare due trasferte insidiose, quella di Padua e poi se andrà a giocare contro il Sassuolo. No, ma io penso che se noi miglioriamo sotto un aspetto sul quale io sto lavorando tanto, tipo il possesso della palla, le giocate sul corto eccetera, credo che oggi si sono viste delle belle trame, ci stiamo preparando, credo che questa scuola non debba aver paura di nessuno. L'importante è che crediamo nel lavoro che si fa, ma su questo non ho nulla da dire perché le ragazze sono 15 giorni che si impegnano davvero con tanta intensità. Adesso pensiamo a Padova, dispiace anche per i tifosi perché ci tenavamo oggi a portare a casa i tre punti, ma sarebbero stati anche meritati, però il calcio è crudele e speriamo che quello che ci ha tolto oggi ce lo possa ridare domenica prossima. Per te è la prima rete stagionale, però non è servita la prima vittoria a Casalinga? Sì, purtroppo come è già successo all'ultimo abbiamo avuto un po' di sfortuna e è andata così. Cosa succede a Rezzo negli ultimi minuti? Già più volte abbiamo visto nel corso delle partite qua a Lorentini essere recuperata proprio nei minuti finali. Forse un po' di calo d'attenzione, però comunque ce la mettiamo sempre tutta fino all'ultimo. Secondo me è anche molta sfortuna, è un po' un campo, come ha detto Laura in un'intervista, stregato. Cosa si può fare per cercare di migliorare a questo punto, per trovare la prima vittoria a Casalinga? Secondo me arriverà presto perché stiamo migliorando sempre più, poi con la nuova allenatrice stiamo impostando un bel gioco.